Ancora discussioni a Senigallia sulla progettazione della nuova pista ciclabile che interesserà il lungomare. Giovedì c'è stato un consiglio comunale aperto per approfondire la questione. Ne avevamo parlato la scorsa settimana e anche in questo venerdì siamo tornati sulla vicenda con la diretta radio, web e tv dagli studi di Radio Velluto a Senigallia. Ospite di questa settimana il sindaco Maurizio Mangialardi e ovviamente microfono aperto ai cittadini. Sapevo che avrebbe aperto un bel dibattito e sono molto contento dei toni e delle modalità con le quali ci stiamo confrontando con i cittadini, con gli operatori, con gli imprenditori di quel territorio. Questa la vuole lasciare come l'ultimo atto importante di un cambiamento che è stato lento e graduale che ha sicuramente trasformato la città di Senigallia nel suo mandato. Non faccio le cose per l'ultimo, lasciamo quello che abbiamo seminato in questi 20 anni e dentro il progetto della mobilità leggera queste infrastrutture sono state sempre una nostra peculiarità. Poi non l'abbiamo potuto realizzare prima perché le risorse non c'erano, siamo stati capaci di intercettare risorse che sono sovracomunali e quindi oggi siamo nelle condizioni di aggiungere un pezzo già un progetto più ampio che è quello della ciclovia adriatica della quale noi ovviamente siamo stati grandi protagonisti. Allora rimane attualmente una decisione che è quella nata da esami tecnici, valutazioni pur rimanendo sempre aperta la disponibilità a fare altri tipi di ragionamenti per quanto riguarda la locazione della pista città. Quello intanto lo faccio, è un progetto provato che ha avuto il consenso della comunità europea e che ci ha permesso di avere il finanziamento. Noi abbiamo aperto un confronto intanto per spiegare le ragioni perché ovviamente avremmo voluto la sosta, la pista ciclabile, il doppio senso e ancora la sosta ma questo in quel nastro stradale non è contemplabile quindi ci siamo mossi con la soluzione che riteniamo più efficace, maggiormente gestibile e sicuramente di maggiore qualità e sicurezza.